salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video parliamone ho visto che questi video vi piacciono e mi sono sentito di fare questo video perché perché ho commentato ho voluto commentare un video di questa persona che non farò il nome che fa recensioni di film non vi dico neanche perché poi potete trovare facilmente se vi parlo che film è eccetera voglio evitare voglio fare dissing cose strane me ne fotto la minchia però vi devo dire soltanto che no tranquillo non sono quei recensori del sottobosco come il mio nel senso che siamo con pochi iscritti e non come si dice ci mangiamo tra di noi quasi quasi no parliamo di tanti tanti iscritti e mi sono accorto questa cosa non mai lo so mai da anni per questo non commento più e anche il mio modo di fare youtube lo hanno anche loro condizionato nel senso che per me e anche il commento negativo per me può essere sempre anche se stupido commento negativo una fonte no per farci un video per parlarne con voi e anche no prendere anche i commenti positivi che mi arrivano da voi idee che mi date per fare dei video no spesso avete visto no leggiamo insieme un commento intelligente e lo andiamo analizzare vi rispondo anche con tutto ciò che non me non mi arriva niente nel senso non è che mi donate qualcosa io allora sono in dovere come altri youtuber che vogliono essere donati vogliono essere diciamo per per essere cacati da questi qua che si sentono chissà che deve uno per forza donargli dei soldi perché sennò tu non esisti è la stessa cosa che è capitata a me cioè nel senso che non ho avuto neanche una risposta nel mio commento ed è stato anche cancellato e sono stato anche bloccato dal canale che non posso commentare più e ho finito di commentare in quel canale qua perché perché prende se io avrei fatto una donazione e il mio commento forse che non era negativo nel senso che non ero d'accordo con questa persona lui non gli è piaciuto e quindi è eliminato vaffanculo se avrei forse donato il mio commento forse sarebbe rimasto perché c'è dietro una donazione quindi non puoi tu si puoi bloccare mi sembra lo stesso però rimane il mio commento dovrebbe rimanere no anche se ho pagato penso non lo so io non ho mai fatto donazione quindi non lo so come funziona però è brutto che per essere calcolati uno deve aprire il portafoglio cioè ora mi direte Ivan ma tu lo fai perché tu hai il canale piccolo no ragazzi miei quelli che ci mangiamo tra di noi come dei cani qua rabbiosi canali piccoli come i miei o che hanno qualcosa in più di qualche 100 iscritti in più o chi ne ha un 300 400 in meno di me commentano che si vede proprio che si seccano pure a commentare cioè io ho visto un commento di uno di voi proprio sotto a questi video di questi fantomatici recensori dei miei stivali parlo piccolini come il mio che uno di lui ha augurato una buona serata e lui ha fatto ok bello cioè non si sentono neanche cazzo di descrivere buona serata cioè se la tirano anche quelli con il canale piccolo di merda come il mio nel senso che io non dico che sono un grande canale cioè ora sto arrivando quasi a 2000 sono contento non sono neanche grandi numeri arrivo a 2000 per me che siete 2000 vi do importanza a tutti per me siete delle persone non siete dei numeri invece per loro sono solamente dei numeri che possono portargli dei dei vantaggi no ricevere roba gratis essere cagato dalle aziende eccetera eccetera per me avete importanza tutti quando per questo vi dico sempre commentati io vi rispondo o mi piace c'è io il canale l'ho aperto sì per voler che un giorno non so potrebbe diventare un vero lavoro fisso proprio youtube lo spero tanto con tutto il cuore ma anche la cosa mi piaceva tanto e non parlare soltanto con i tre quattro amici che avevo di cinema e finiva lì io ho detto io mi voglio espandere voglio parlare a persone possibile voglio arrivare che il mio giudizio non è relegato alla mia amica le mie amicizie voglio che tanta gente venga a sapere cosa ne penso io di quel film però mi sono preparato prima di mettermi in gioco e mi sto sempre migliorando giorno dopo giorno perché c'è sempre da mettere il fatto che uno non può aprirsi un canale di qualcosa non sapendo neanche di che cazzo stiamo parlando domani non mi aprirò un che ne so un canale di cucina che io non so cucinare per farvi capire il problema è che queste persone qui non l'hanno fatto secondo me come veramente passione cioè già hanno puntato sul fatto che loro ci devono guadagnare ci devono fare dei soldi devono monetizzarci qualcosa anche io sono qua a dirvi sempre donate se volete per supportarmi o vi dico anche già un mi piace un commento già è un aiuto che mi date al video però vi voglio far capire che la differenza tra queste persone o piccole o grandi che siano io non capisco il perché non hanno il rispetto per queste persone che li seguono dici ma vabbè ma sono alla fine si sono iscritti ho capito ma grazie a quei cazzo di numeri anche se loro non donano niente stanno sempre aiutando quel canale e come io vi faccio l'esempio no mi faccio un esempio no stupido nel senso un esempio che ho fatto questo ragazzo conosciuto su fortnite penso che l'ho scelto tutto il videogioco e mi dice io non ci ho mai speso soldi loro per me possono fallire e qua l'ignoranza pervade questo ragazzo perché io ho detto scusami ma lo sai che solamente il tuo tempo che io ti vedo che anche dieci ore al giorno tu ci giochi già tu li stai ripagando e lui mi dice in che senso scusami se io gioco e non spendo soldi come faccio io a ripagarli a questi qui come perché prende le ore che tu accumuli sul gioco loro le mostreranno insieme le tue ore insieme alle ore di altri che non spendono soldi come dici tu o chi spende li mostreranno agli investitori e gli investitori vedendo che tanta gente anche se non può spendere o meno ci stanno tutte quelle ore sopra quel gioco vuol dire che è un gioco di successo e quindi loro portano le loro collaborazioni non lo so non so se sapete su fortnite sta arrivando di tutto arrivano personaggi della marvel star wars no c'è questa collaborazione con la disney arriveranno ora mi sembra proprio in questi giorni arrivano pure i pirati dei caraibi su fortnite c'è disney ha pagato più di un mi pare circa un miliardo e mezzo per metterci pirati dei caraibi su fortnite quindi non ci guadagna perché tu non ti sei fatto le nove euro di battle pass ogni tre mesi ma ci guadagna sul fatto che tu ci stai spendendo del tempo e il tempo non si può comprare per questo vi voglio dire il tempo anche che voi guardate i miei video state qui sotto a commentare per me è già importante perché avete dedicato il vostro tempo a me cioè a guardare il mio video anziché guardare il video di qualcun altro per me è già importante poi se donate per me ragazzi anche meglio cioè mi aiutando ancora di più a migliorare portare nuovi contenuti investire ancora di più sul canale portarvi altre cose mi incentivate ancora di più a muovermi e lo sapete anche con tutto ciò che non ricevo donazioni l'ultimo è stato di alex battista che saluto che mi aveva donato due euro l'ultimo che è stato in queste settimane voglio farvi capire che io vi non vi lascio mai senza contenuti ogni giorno c'è sempre un contenuto invece altri youtuber per portarvi più contenuti loro ti dicono apri il portafoglio perché il mio tempo vogliono prendere vogli essere pagati e ti mettono anche le pubblicità cazzo cioè io ti ti pago per per la recensione e mi devo pure sopportare le pubblicità fa un culo ci puoi guadagni pure con le visualizzazioni cioè vi rendete conto di cosa stiamo parlando allora se una donazione così a cuore aperto che mi donate ne so domani 100 euro così senza che io vi sto dicendo donatemi 100 euro vi faccio questa cosa senza diciamo un per forza uno scambio un baratto nel senso io vi sto diciamo che volete donarmi così che non c'è un qualcosa che dovete ricevere ok c'è io vi faccio la minaccia che se non mi arriva certe donazioni io loro non faccio ora mi arriverà qualcuno intelligente mi farà eh ma te chi te li donerebbe tutti quei soldi eh non te la tirare me la sto tirando sono tranquillo bro stai tranquillo anche tu o sister se è una donna che viene in mente di dirmi qualcosa quindi fatemi sapere un po la vostra su questo discorso cosa ne pensate dei commenti se avete avuto anche voi esperienze con certi youtuber penso con me esperienze brutte non penso proprio perché tante persone che non si sono trovate d'accordo con me con tanti film alla fine io ci parlo tranquillamente anzi si sono create anche delle amifizie come Antonio Tofani che io saluto che vi invito anche a iscrivervi al suo canale che si chiama horror room eh 2004 a Antonio Tofani vi consiglio di andare al suo canale che è molto interessante vi farà scoprire robe incredibili di film che io neanche io conoscevo quindi per farvi capire io non sono non è perché non sono d'accordo con qualcuno io dovrò devo bloccarlo o di chi è un ignorante o se gli piace la merda quella persona o meno ma io chi cazzo sono a di qualcosa portano rompe i coglioni questa è la cosa più importante io vi risaluto a tutti e mi raccomando qua sotto commentate ditemi la vostra esperienza io vi ringrazio tutti per l'attenzione e per la visualizzazione noi ci vediamo sempre a un prossimo video ciao ciao